Il reparto operativo dei Carabinieri di Teramo ha eseguito questa mattina 13 ordinanze di custodie cautelari, 6 in carcere e 8 gli arresti domiciliari a carico di soggetti residenti tra Martinsicuro e Colonnella, ma originarie di Napoli. Nell'area Teramana, in Ascoli Piceno, nella zona di San Benedetto del Tronto e a Napoli abbiamo svolto un'attività con 100 uomini circa e le unità cinofile per arrestare 14 persone, 13 sono state catturate e una manca l'appello. Un'attività che andava avanti da quanto tempo? Da oltre 18 mesi sotto la direzione distrettuale antimafia dell'Aquila che ha visto un provvedimento cautelare per 14 persone come ho detto prima che è stato firmato dal GIP del Tribunale dell'Aquila. Gli arrestati sono tutti quasi residenti nella zona del Teramano, come dicevo c'è anche Napoli dove sono state interessate alcune persone raggiunte dal provvedimento cautelare. Operazione che non si ferma qui? No, abbiamo 72 persone che sono state sottopostate a indagini e quindi ci saranno ulteriori sviluppi. In carcere è finito Gennaro di Costanzo, 38enne, originario di Napoli, considerato dai militari il vertice del sodalizio criminale. Antonio Manzo, Ines, Aldo e Raimondo Buonavoglia e Carmine Pietropaolo. Agli arresti domiciliari è finita l'unica Teramana coinvolta nell'operazione, Donatella Mancini di Colonnella, oltre a Patrizio Andolfi, Antonietta Di Giorgio, Anna Maria Buonavoglia, Immacolata Odierno, Andrea Iozzi e Francesco De Luca. A tutti viene contestata l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti con l'aggravante del metodo mafioso per tre dei soggetti arrestati. L'articolo 7 prevede la contestazione del metodo mafioso che è stata fatta in capo al capo dell'organizzazione che risulta essere contigua al clan amato Raffaele degli Scissionisti. Le indagini sono state dirette dal sostituto procuratore David Mancini della distrettuale antimafia dell'Aquila mentre le ordinanze sono state firmate dal GIP Marco Billi della distrettuale. Abbiamo avuto una collaborazione da parte del gruppo della Fininvesti in relazione all'estrapolazione di immagini di un servizio che è andato in onda in questo programma che era interessante per l'attività investigativa. Le investigazioni inoltre hanno permesso finora di trarre in arresto 21 corrieri e sequestrare 8 kg di sostanze stupefacenti anche all'estero e quantificare in oltre 25 kg il volume di droga trattato. Noi abbiamo avuto collaborazioni con altre forze dell'ordine in campo nazionale perché ci sono state delle convergenze investigative, i nostri soggetti hanno operato anche in altre province e quindi questo va da sé e viene da plano. Grazie a tutti.